Oggi giornata magica, tempo meraviglioso e vista la bella giornata abbiamo deciso di venire in Valle d'Aosta e farsi una bella ciaspolata. Siamo in Val Ferré, alle nostre spalle il Monte Bianco, non c'è una nuvola che sia una nel cielo. Che dici? Possiamo andare? Possiamo andare. Dai. Ciao. 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 C'è che mi viene a liberare? Eccoci alla fine della passeggiata. Usiamo la pista battuta del fondo valle che corre parallela alla pista di fondo. Qua infatti la Val Ferré è conosciuta molto per la pista di fondo che corre nel fondo valle, molto apprezzata dagli appassionati, oltre che per il passaggio di uno dei trek più belli del mondo, il Tour du Mont Blanc, molto frequentato nella stagione estiva. Noi abbiamo passato una meravigliosa giornata di vacanza, questo giovedì ci è piaciuto più di qualunque altro sabato o domenica, vero? Mmh. Ce lo siamo proprio goduto e alla prossima. Ciao. Alla prossima. Ciao. Grazie a tutti.